Dal Vangelo secondo Giovanni. E' schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa. Il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Il figlio vi resta per sempre. La possibilità di seguire il nostro cuore, il nostro desiderio, è ciò che ci rende persone. Noi non siamo come gli animali guidati dall'istinto, ma appunto persone, chiamate a scegliere, a decidere. Poniamoci però una domanda. Noi siamo liberi per natura? Noi nasciamo liberi? Probabilmente molti influenzati dalla mentalità contemporanea a questa domanda rispondono. Sì, noi nasciamo liberi. Infatti da questa mentalità è nato negli anni Sessanta uno slogan molto evidente e chiaro che riflette questa mentalità. Lo slogan diceva vietato vietare. Una espressione che considera buona l'azione che è spontanea. Nessuno ha il diritto di dire a un altro non fare questo. Questa mentalità, in certa misura, si è poi entrata anche nel metodo educativo. La tradizione di Israele e l'insegnamento ripreso da Gesù, invece, considera la libertà come una conquista. Si diventa liberi. Non si nasce liberi. Infatti il nostro desiderio, motore della vita, non è illuminato e purificato, ci conduce a una vita da schiavi perché il nostro desiderio è malato, è abitato anche dal tentatore che ci fa scegliere cose sbagliate, cose che non fanno il bene nostro e degli altri. Se ripensiamo all'esperienza di Israele, nella memoria di Israele c'era una esperienza fondamentale, quella dell'Esodo. L'Esodo era appunto un cammino verso la libertà. E questo cammino non si è esaurito solo nel momento in cui Israele è stato sottratto dal potere del Faraone e attraversando il mare è diventato libero dal peso degli egiziani. Ma c'è stato un secondo passo che ha reso Israele libero, anzi un passo decisivo, quando è arrivato al Sinai e qui Dio ha donato le dieci parole, i dieci comandamenti e il popolo ha accolto queste dieci parole come strada di vita. Solo ascoltando, vivendo secondo le dieci parole, i dieci comandamenti, Israele avrebbe potuto vivere come popolo che pratica la giustizia, che vive l'unità. Dunque la libertà per Israele non è stata solo essere sottratti da un dominatore, ma ricevere delle indicazioni che permettessero al popolo di camminare secondo la giustizia. Gesù in fondo riprende questa mentalità e con una frase che nella sua semplicità però è di una profondità enorme dice «Voi avete creduto in me». Questo è già un primo passaggio, è già un primo passo appunto verso la libertà, però non è sufficiente. E' necessario anche per vivere da liberi fare un passo ulteriore, e cioè rimanere nella mia parola. Rimanere nella parola indica che la parola è come una casa dove si abita, dove si sta. Non basta l'ascolto superficiale, è necessario un esercizio quotidiano di ascolto che dona alla parola la possibilità di rimanere in noi, di essere accesa dallo spirito, di accompagnare la nostra vita, e allora diventa vera. Pensiamo alla bella espressione usata dai monaci, la parola va ruminata come la mucca prende l'erba, la mangia, ma poi la rumina, la riprende, la mastica per tutta la giornata, così avviene per chi vuole rimanere nella parola, ascolta, ma poi tiene la parola nella propria mente, nel proprio cuore, la fa diventare preghiera. Quando si fa questo esercizio, allora si conosce la verità. Conoscere la verità non è un atto intellettuale. Adesso conosco qualcosa di più, conosco il capitolo 8 di San Giovanni. No, non basta avere un risultato di tipo intellettuale. Quando uno rimane nella parola, conosce la verità, conoscere vuol dire entrare in relazione, avere un rapporto intimo con la parola. Questo rapporto intimo con la parola produce come frutto che la parola dischiude per noi la bellezza, dischiude per noi l'esperienza che è vero ed è buono essere discepoli, che veramente le situazioni della nostra vita prendono senso grazie alla parola che noi abbiamo e rimane e abbiamo nel nostro cuore e accompagna la nostra esperienza. La parola conosciuta mostra che la nostra vita è bella, che è libera dalla schiavitù, che trova energia per vivere bene proprio grazie a Gesù. Questa parola apre la nostra vita alla speranza, al perdono, alla speranza della vita eterna. La libertà ottenuta attraverso questo ascolto, chi rimane in me e conosce la verità e la verità farà liberi, è allora la capacità di decidere secondo il desiderio di Gesù. È la capacità di fare scelte di vita. Ecco il senso della libertà. Sono libero quando vivo da discepolo, quando faccio ciò che Gesù mi insegna. La libertà è dunque una relazione, non solo un'espressione del soggetto, ma un'esperienza di un soggetto che vive in relazione, in compagnia con Gesù, il liberatore. Finché dura il nostro prelignaggio sulla terra, dura anche il cammino verso la libertà che mai è conquistata in maniera piena. L'ascolto, il tempo dato all'ascolto delle parole di Gesù, un ascolto fatto nella preghiera, è come la nostra palestra che ci aiuta a fare passi da liberi.